Vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e in altre parole le punte di diamante dell'enogastronomia toscana raccolte in vista del Natale nel paniere delle eccellenze da Ant Toscana, l'associazione nazionale tumori attiva nella regione dal 1995. Quattro prodotti in ciascuna borsina di juta che oltre a promuovere la tradizione alimentare toscana e a sostenere uno stile di vita alimentare sano servono a raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza domiciliare dei malati di tumore. In oltre 20 anni Ant ne ha assistiti 5.912 e offerto centinaia di visite oncologiche gratuite. Sono servizi indispensabili per aiutare, accompagnare e sostenere non solo le persone ma le famiglie quando ci si trova a combattere contro un tumore. È sempre un evento che colpisce non solo la persona ma l'intera famiglia e riuscire a gestire tante problematiche a casa anziché in ospedale è sicuramente un risultato importante sia per la persona che per il sistema. La distribuzione del paniere è prevista come evento itinerante. Gli appuntamenti sono in programma su tutto il territorio regionale, in particolare in occasione dei mercanti di Natale nei punti Ant Toscana, dove si potranno anche ricevere consigli sui corretti stili di vita. Educare, insegnare che fare sport non a livello agonistico ma per il piacere di farlo e con una cadenza e una abitudine settimanale e alimentarsi nel modo corretto privilegiando alcuni alimenti a discapito di altri probabilmente aiuterebbe molti di noi a conservarsi non solo meglio ma anche evitare tante malattie. L'iniziativa di Ant prevede anche incontri con nutrizionisti, medici e personale Ant coinvolti in eventi dedicati alla dieta mediterranea e alla prevenzione a tavola.